Ciao a tutti ragazzi sono Orko Verde, in questo video vi mostrerò finalmente come creare il mio completo, ovvero il completo da Orko Verde. Per creare questo completo non dovete avere chissà quali requisiti o completi glitchati, però dovete essere su Next Gen in quanto questo completo l'ho creato con degli abiti che su Old Gen non ci sono. Comunque se ragazzi per fare questo completo dovete recarvi in un negozio d'abbigliamento, dovete andare su pantaloni jeans, dovete indossare i jeans aderenti oliva scuro. Una volta che avete indossato questi pantaloni dovete andare sulle parti superiori camicie e dovete indossare la camicia nei pantaloni verde. Quando avrete indossato la camicia, sempre stando nel menu parti superiori, dovrete andare su soprabiti e dovete indossare il soprabito parca aperto foresta. Quando avrete indossato il soprabito dovete andare su scarpe, scarpe da skateboard e dovete indossare le scarpe da skateboard oliva. Una volta che avrete indossato le scarpe dovete recarvi a Vespucci nel negozio di maschere e copricapi, dovete andare su maschere, mostri e indossare la maschera mostro verde. Peccato che la Rockstar non abbia chiamato questa maschera orco verde, altrimenti era il top. Però comunque sia ragazzi, questo è il completo, non è assolutamente un completo glitchato, sono completi che si possono acquistare tranquillamente tutti quanti. Se vi state chiedendo il motivo, perché non ho creato questo completo con i vestiti che ci sono anche su Old Gen? Semplicemente perché non mi piacevano e dato che non erano nemmeno molti, per cui ho preferito creare questo completo con alcuni vestiti che ci sono solamente su Next Gen, rilacciati in questi ultimi DLC. Se alcuni giocatori di Next Gen che vogliono creare questo completo hanno problema a crearlo, in quanto la maschera da mostro verde, se non sbaglio, si poteva avere su Next Gen solo trasferendo l'account da Old Gen a Next Gen. Acquistandola ovviamente su PlayStation 3 e Xbox 360 prima di trasferire l'account alle console Next Gen. Comunque sia ragazzi, se appunto non avete questa maschera, potete anche non indossare nessuna maschera oppure indossarne una simile a quella che ho indossato io, che avete acquistato o comunque sia che potete acquistare. A breve ho pensato di caricare la serie del cazzeggio in Free Mode insieme a voi iscritti e anche la serie di LTS. Quando entrate in una di queste attività vi invito a selezionare il completo che ho appena creato, così che mi farete davvero contento. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, soprattutto condividete questo video sui social network insieme ai vostri amici. E da Orcoved è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!